Per tutti quelli che continuano a scrivere sui miei commenti l'Ucraina è stata invasa, la Russia è un paese aggressore. Allora, parliamo della Palestina che da 70 anni è invasa dall'Israele, che non fanno altro che massacrare i bambini, donne, innocenti, tutti civili. E quello che stanno facendo ancora oggi, la Palestina non è invasa. Ma fatemi un favore, prima di parlare c'è 4 mila bocca, va che meglio. E voglio aggiungere che la Palestina è invasa da 70 anni dall'Israele, ok? L'Ucraina è dal 2014 che non fa altro che bombardare il Donbass, che massacrano donne e bambini, tutti innocenti, ok? Ok? Quindi prima di dire L'Ucraina è stato invaso, Putin è l'aggressore, solo questo sapete dire. Cambiate disco perché avete stancato, siete solo una grandissima noia. Basta, basta, basta. Eh, su, andale. E l'Ucraina è invaso, ti amo, ti amo, ti amo. E grazie a tutti. Grazie a tutti.